buonasera madman e buonasera esperanti madman e benvenuti a un nuovo episodio del tripto espresso il nostro solito appuntamento settimanale durante il quale andiamo a fare il check up di markup dal punto di vista delle notizie dal punto di vista della metric on chain e un po in generale dal diciamo sotto il lato fondamentale prima di cominciare vi ricordo che questa è solo una delle varie attività formative che facciamo all'interno di madman qui ci sono altre legate a market update strategie eccetera per le quali però vi suggerisco di andare in descrizione cercare il link e andare a spiare un po con anche con uno dei profili che ci sono quello che facciamo in community e che ci sono appunto tutta una serie di incontri clandestini all'interno della comunità durante i quali che messo così si chiama quasi gli alcolisti anonimi ma durante i quali insomma i diversi diversi madman si confrontano crescono assieme studiano e lavoro per capirci qualcosa all'interno del mondo cripto vi ricordo anche che in descrizione sempre trovate sia il link per l'acquisto al corso diciamo alla bc per avvicinarsi al mondo delle cripto sempre fatto da noi e una serie di antelink che in alcuni casi hanno dei bonus altri no ma che sono insomma i link di affiliazione con i quali ci aiutate cioè voi spesso avete qualche qualche regalino in più aiutate noi a tenere alto il canale cioè a tenere alto a tenere vivo il il canale finita la consulata parte marchettara eh cominciamo con con le cose serie e andiamo a vedere la solita carrellata di notizie indicatori informazioni generali market cap e via dicendo primissima notizia che sicuramente avrete già visto e che va ad aggiungere un altro tassello al eh sopopera delle cioè sopopera realtà alla vicenda molto interessante del rapporto tra russia e e cripto a quanto pare eh la russia ha deciso di legalizzare cioè di regolarizzare a tutti gli effetti legalizzandolo eh come valuta bitcoin questa attenzione non significa che la russia stia facendo lo stesso eh lavoro che è stato fatto eh che è stato fatto con el salvador ma semplicemente semplicemente tra virgolette che bitcoin e che le cripto passeranno dall'essere un asset digitale eh all'essere considerato a tutti gli effetti legalizzandolo questo tipo di di trasformazione importante questo tipo di decisione è importante perché da un lato perché eh la russia è un player nel comparto cripto piuttosto importante eh sia per tutto il tema del del mining e delle delle mining farm eh ma anche semplicemente per quello che è il peso politico e rappresentativo scusate politico e a livello di ehm diciamo psicologico di percezione da parte da parte del mercato globale eh in relazione appunto al mercato cripto cioè in relazione al mercato in generale in questo caso in relazione al mercato cripto che la russia vada a dare un un riconoscimento legale e il fatto ad abbracciare il mondo cripto è chiaramente un una decisione che avrà un po' sui del 100% perché nessuno ha la sicurezza matematica ma il 99,9% della ricaduta è estremamente interessante per tutto eh per tutto il comparto cripto ed è importante anche perché perché ripeto va a inserirsi in un in un percorso che ve lo ricorderete che ne abbiamo parlato nei precedenti cripto espresso è passato da un la russia vuole bannare bitcoin morse nella stessa direzione della cina a un eh la banca centrale della russia vuole bannare bitcoin ma putin non è d'accordo a un il governo ha fatto sì che anche la banca centrale e in generale il mondo ehm diciamo la 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 governance eh finanziaria del del paese eh switchassero completamente la propria impostazione da un banniamo bitcoin ad un accettiamolo ma regolarizzandolo il fatto che abbiamo deciso di accettarlo ma regolarizzando infatti qua abbiamo evidenzato alcune cose come appunto legalizzare cripto definire delle regole eh molto dei confini normativi molto precisi eccetera 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 ehm è ma lo sapete perché vi ho più detto detto più volte qualsiasi mia posizione a riguardo eh una cosa stra positiva perché più il mondo cripto viene normato e per normato intendo viene in incasellato in un sistema normativo che abbia un senso non che sia oppressivo ma che permetta di eh gestirlo in in maniera coordinata col col resto del del mondo finanziario in questo caso russo ma in generale internazionale eh più è facile che il mondo cripto diventi effettivamente mainstream poi possiamo ovviamente aprire mille parentesi e mille riflessioni sul tema della decentralizzazione sul fatto che alcune cose come la DeFi siano eh difficili da eh regolamentare su dove ehm diciamo su dove l'aspetto della ehm della di creare una normativa vada ad essere legittimo e sensato come ripeto io assolutamente sostengo al cento per cento e dove invece si rischi di sfociare nel tentativo di over controllo di persone cioè possiamo poi andare a ricamare su questo quanto volete ma il punto fondamentale è che più eh si va in una direzione di accettazione e integrazione del comparto cripto a un punto di vista normativo all'interno del mondo diciamo normale eh e tradizionale quindi più si va ad interrare la novità ma in modo funzionale più il mondo cripto ha solo che da beneficiare anche perché è il modo migliore per eh cancellare un po' alla volta tutte quelle vecchie leggende metropolitane barra narrative di 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 vecchio stampo che invece eh vanno a vedere nel bitcoin e nel comparto cripto il male eh ovviamente qualsiasi riferimento puramente casuale non voluto basta pensare al caso di di El Salvador del Fondo Monetario Internazionale insomma cose di cui abbiamo parlato la settimana scorsa un paio di settimane fa qui poi vabbè il mh l'articolo va anche a mettere mh va a mettere insomma appunto alcune riflessioni molto velocemente come il fatto come il legge un dubbio di dire ok questa bozza di legge di legge va rappresentata il diciotto febbraio ma come poi questo andrà a convertirsi in qualcosa di concreto e in che misure con quali modalità sa tutto da vedere ma è sicuramente una gran bella notizia per chiunque si si occupi di 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 credito valuta perché comunque una legalizzazione di di questa portata da da un paese della portata della Russia eh scusate gioco di parole alla ripetizione ehm insomma non può non può che portare veramente un gran bello. Seconda notizia che uso come scusa per ricordarvi un appuntamento importante eh ma anche per farvi notare un insomma un una trovata da parte di Binance eh piuttosto cioè con un suo una sua dimensione etica interessante ma anche con un interessante torna conto per la per la piattaforma ehm questa domenica vi ricordo ci sarà il Super Bowl e il Super Bowl sarà un'occasione importantissima per quanto riguarda le cripto perché e qui vi rimando i percenti di cripto espresso eh la diciamo lo spoiler che non è uno spoiler è che ci sarà eh ci saranno degli degli spot legati appunto al mondo cripto perché sono stati comprati degli spazi pubblicitari destinate appunto a a a a pubblicizzare in uno di quelli che eh in uno in un evento che forse è tra i più importanti a livello di visibilità al mondo ehm appunto per pubblicizzare le cripto con un pubblico potenzialmente enorme. Ne abbiamo già parlato in precedenza abbiamo parlato vabbè sapete che da tx a cripto.com eh allo stesso Terra Luna cioè ci sono stati diversi cripto.com da questo punto di vista è forse il 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 così cioè il capofila eh ci sono stati un'infinità di interventi di di partnership e di collaborazioni tra realtà sportive e appunto ehm aziende eh realtà legate 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 alle cripto e al Super Bowl appunto il il tema della pubblicità della comunicazione della promozione della cripto sarà eh probabilmente una delle cose che farà che farà notizia. Quindi quello di domenica è un appuntamento che eh per il mondo cripto potrebbe ehm avere delle ricadute interessanti anche a livello di press action perché comunque ci sarà una visibilità enorme ci sarà un un endorsement enorme e soprattutto ci sarà un endorsement fatto da celebrità o comunque in un scusatemi fatto in un non da celebrità ma in un contesto ufficiale di grande importanza e non da degli addetti al lavoro e sapete benissimo che quando si parla di pubblico mainstream sono proprio queste eh alcune tale cose che possono avere un delle ricadute positive e negative eh anche proprio a livello di eh di di FOMO e di di eh di trader della domenica ma comunque delle ricadute sensibili eh sui mercati di conseguenza anche sui grafici. Tutto questo per dirvi che l'idea dell'evento del Super Bowl in sé che sicuramente è un evento da tenere sotto sott'occhio e importante ehm va anche considerata questa iniziativa di Binance che si sta muovendo che sta sostanzialmente sfruttando in maniera strategicamente intelligente il l'occasione del Super Bowl per dire eh ragazzi cioè per farsi pubblicità portare acqua al patomolino ma anche per fare un lavoro di sensibilizzazione che che sia mosso da ragioni etiche o non etiche strategiche non strategiche chi se ne frega è comunque importante perché quello che ha fatto Binance è stato lanciare è stato lanciare ehm qua lo definisco uno spot che in realtà sono degli interventi eh da parte di piccoli interventi da parte di diverse celebrities eh una serie di appunto piccoli video nei quali viene ribadito che eh bisogna stare attenti quando si ha a che fare con gli investimenti e non specifico con le criptovalute perché eh per quanto eh le celebrities possano dire eh fighissimo appoggiamo le cripto abbiamo investito in cripto eccetera 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 alla fine la cosa importante è che ciascuno faccia proprio due diligence studi e vada a capire esattamente cosa fare qua vedete che il primo video è stato rilasciato con Jimmy Butler che io sono un cane dal punto di vista sportivo quindi non conosco che è un attaccante di Miami Heat e che dice in maniera anche molto onesta posso dare che consigli su un sacco di cose ma non sui vostri soldi e tutti gli altri video saranno fatti sulla stessa falsa ovviamente qualcosa farà a Binance con una eh diciamo un'iniziativa di 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 un incentivo scusatemi eh di eh dato in cambio eh dato in premio a chi appunto poi andrà ad aderire ad unire sulla campagna e con uno per sei martin il peto piuttosto piuttosto sveglia eh andrà a portare eh traffico sulla propria sulla propria piattaforma e poi eh ovviamente soprattutto eh a indirizzare questo traffico verso la parte di academy di Binance che sapete di formazione di Binance che sapete essere estremamente ricca ben fatta oggettivamente e molto 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 eh molto corposa molto ehm variegata in termini di interiattare eh quindi iniziativa questa ripeto puramente Marchettara molto furbetta perché si dice non fate attenzione al Super Bowl non seguite quello che vi con le celebrità seguite quello che vi con le nostre celebrità però intanto venite nella nostra piattaforma iscrivetevi e cominciate a studiare con noi ma che ripeto al di là delle ragioni strategie che possono avere la spinta eh e generata ha comunque il merto di dare un messaggio molto giusto ovvero sia quello di dire non investite a caso ma tenete sempre a mente che avete ragione con la vostra testa a fare la vostra due diligence a studiare e capire con molta attenzione cosa fate dei vostri soldi dove diventete. Terza notizia che è borderline con l'analisi tecnica eh ci diciamo quella parte un po' più di 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 studio tecnico dei grafici da price action secondo gli analisti JP Morgan il fair value di Bitcoin è intorno ai 38k ora il fair value è quando si parla di fair value si indica di valore cioè si parla di valore corretto e realistico di un asset quindi è quanto quell'asset dovrebbe valere quando non è né sovrapprezzato né underprezzato. È ovviamente una stima nessuno di nuovo c'è né la sfara di cristallo né in questo caso la verità in mano più che la sfara di cristallo ehm però sulla base di tutta una serie di di parametri di di valutazioni si va a stabilire il fair value di un certo asset. Nel caso di Bitcoin secondo gli analisti JP Morgan il ehm il fair value di BTC sarebbe leggermente inferiore eh a quel leggermente sarebbe inferiore rispetto a quello attuale. Quindi ehm ehm loro lo stimano normalmente intorno a 38mila dollari eh con una possibilità di salire a 50mila se la volatilità di Bitcoin che secondo gli analisti JP Morgan è il principale ostacolo dovevano un fair value più alto si riducesse a tre volte che è quella dell'oro quindi uno dei parametri è appunto il rapporto in termini di volatilità a rispetto al prezzo dell'oro al valore dell'oro eh ma comunque eh ad oggi ad un ad un valore inferiore ai 43 44 quali intorno ai quali ci stiamo vengendo attualmente. Perché è importante questo tipo di raggiamento? Principalmente per due motivi. Il primo è che eh per quanto JP Morgan come molte altre istituzioni come molte altre realtà non abbia la verità in mano resta comunque un player importante. e eh come sapete il mercato è fatto da esseri umani, è fatto da istituzioni che sono comunque formate da esseri umani e di conseguenza è fatto da emozioni e psicologia. Questo significa nel momento in cui mh grossi player, grosse realtà danno delle direzioni non è che possano o meglio non è che in teoria possano ehm indirizzare in modo preciso il mercato ma sicuramente possono dare degli strumenti che poi a cascata il resto dei soggetti che compongono il mercato noi inclusi andiamo a considerare nelle nostre analisi e quindi nelle nostre decisioni. Nel momento in cui JP Morgan dice che Bitcoin è eh overprezzato, non di molto ma è overprezzato rispetto a quello che serve sul fair value, è legittimo che molti trader vadano a fare dei raggiamenti dicendo ok, se però il valore, il fair value di eh di Bitcoin è di 38k vuol dire che questo è un valore intorno al quale posso fare un certo tipo di raggiamenti e che però eh attualmente attualmente siano più alti posso aspettarmi dei ricercimenti ma dei ricercimenti che probabilmente non dovrebbero andare sotto i 38k e via dicendo. Poi è chiaro, queste sono tutte speculazioni, sono tutte valutazioni, rientrano nel solito discorso che facciamo sempre di valutazione del rischio, di ehm fare la parte di diligence, di non fare previsioni che non stanno in cilindarra, cioè eh è è uno dei tanti dati che possiamo avere, però è un dato che credo sia interessante mettere eh tenere a mente. Il secondo elemento, il secondo dettaglio, vi cerco io su due cose importanti, uno è questo, cioè il fatto che ci dia un fair value di riferimento, il secondo è che eh comunque sul lungo termine il target da parte dell'NCJP Morgan viene considerato a intorno ai centocinquantamila dollari. Eh quindi comunque questo tipo di raggiamento non ci sta dicendo Bitcoin non arriverà mai più al di sopra del dell'oltre mai precedente eccetera, ma comunque anche secondo JP Morgan il valore al quale si deve appuntare nel tempo è intorno ai centocinquantamila dollari. Di nuovo ribadisco che non è un consiglio finanziario ma questo tipo di previsioni lasciano il tempo che trovano eh perché in generale per qualsiasi asset legato, per qualsiasi investimento, per qualsiasi asset finanziario il prevedere è sempre un insomma un un simpatico autoinganno ehm ma resta comunque un un dato dal mio livello strategico sul lungo termine può essere può essere preso in considerazione. Ricordiamoci sempre che siamo nel mondo cripto quindi tutte le ehm siamo tutti gli raggiamenti di sicurezza che valgono i mercati tradizionali nel mondo cripto valgono all'ennesima potenza vista l'altissima volatilità. Poi vabbè ci sono altre considerazioni sul fatto che quella attuale se mi viene una capitola una capitolazione rispetto a maggio duemila e ventuno che però ci siano dei dettagli che ci possono far preoccupare sono tutte le stesse cose nelle quali non mi interessa entra nel merito se volete poi vi date un occhietto l'articolo soprattutto perché alcuni di questi aspetti poi li vediamo in velocità quando andremo poi a parlare delle metri che a fine eh a fine espresso. Chiuse le notizie abomba come al solito la parte di indicatori perché sapete questa ve la faccio molto velocemente a meno che non ci siano delle cose ehm delle informazioni particolari. Fear and read index siamo in una posizione neutrale quindi la posizione che ma essenzialmente sta più sulle palle scusate le francesi. eh perché sapete che quando siamo nella zona di fear, some fear eh siamo in una zona dove eh c'è una potenziale eh informazione strategica legata al al fatto che appunto il mercato sia in panico e senti di alta paura e quindi ci sia la possibilità di un rimbalzo verso l'alto. Sapete quando siamo in questa situazione qui in invece in grid il rischio è quello che il mercato sta andando verso un ritaccimento perché in generale il eh chi il mercato lo compone è in quel momento troppo abilo. Quando siamo in una posizione neutrale è come lanciare una moneta. Quindi potrebbe andare potrebbe essere cinquanta e cinquanta. Poi qua siamo proprio cinquanta spaccati quindi era grandissima. C'è da dire che per quello che è stato il per quello che è stato attuale ci sta che siamo a metà perché siamo stiamo arrivando da un periodo di eh di notevole sofferenza, di notevole ritercimento e correzione. Adesso il mercato ha rimbalzato dato dei senati di ripresa un un momentaneo eh diciamo una momentanea situazione più bullish che bearish ma siamo ancora lontani da poter dire che eh il trend si sia invertito e che eh che la situazione sia consolidata in una posizione in una tendenza rialza. Quindi che il mercato stia osservando anche a livello di sentiment è assolutamente compressibile. A livello di coin tra sessanta molto figo nel senso che sul settimanale siamo con un bel verde se andate a controllare sul giornaliero ci sarà un un po' più spento meno prato primavera più prato che inizia a essere seccato dall'estate ma eh ma ci sta perché abbiamo avuto un po' di scarico un po' di correzione come è fisiologico che si che che sia e e quindi insomma sul sul deli il il i valori positivi sono meno meno intensi ma eh in generale è un panorama molto 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 insomma di di rimbalzi importante con delle percentuali anche molto fighe. Questo tra l'altro vi faccio notare è un qua abbiamo un più venti per cento ma insomma questo vale in generale per tutte le situazioni di questo tipo. Ehm dicevo ne approfitto per farvi notare che quando si dice buon eh in fase di correzione in fase di bear market non si può fare nulla. Sni nel senso comunque sfruttando i movimenti si possono fare sfruttando gli andamenti della press action eh si possono aprire più delle posizioni. È chiaro che dipende dalla vostra ehm esperienza, dalla vostra abilità, dipende dal vostro profilo di rischio, dal vostro profilo di investimento. Sicuramente un investitore su lungo termine se ne frega di questo tipo di cose ma magari un daily, uno swing trader potrebbero approfittare, uno scalper ancora di più. Di base le situazioni eh di mercato dove è difficile andare a ottenere cioè ad aprire e chiudere delle posizioni anche su marce temporali piccoli brevi sono e poi sono le situazioni di 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 lateralizzazione perché lì effettivamente la dimensione della press action si eh non sempre ovviamente dipendete come sto dicendo con le dovute pinze ma tendenzialmente quando il mercato lateralizza eh o comunque ha dei dei momenti di plateau o di di ralentamento lì la variazione della press action va ad essere molto più stretta e quindi il rischio di eh diciamo il profitto che si può portare a casa rispetto al rischio che si accorre non rischia di non diventare così eh così stessato ma quando ci sono invece dei movimenti di trend chiari o a rialzo o a ribasso comunque i movimenti in mercato ci permettono volendo e sapendolo fare di fare delle belle operazioni. Su CoinGecko non ho niente di particolare da dirvi nel senso che scusate sulle 24 ore vedete che abbiamo delle delle percentuali sui gainers niente nel senso che abbiamo comunque percentuali piccine a parte Axie Infinity e scusate mh sì vabbè eh SLP eh che ha fatto che ha fatto un bel un bel rimbalzino e infatti se stiamo parlando poco prima che iniziasse la live con chi si era già connesso chi aveva delle posizioni a parte in SLP potrebbe potrebbe può diciamo che potrebbe aver sfruttato e spero aver sfruttato questo tipo di di rimbalzo magari per alleggerlo un po' perché è stato un movimento per chi è entrato bene abbastanza interessante. Su Losers vedete siamo più o meno anche qui anche qui con delle percentuali abbastanza abbastanza contenute. Quindi diciamo che a livello di Losers di gainers e Losers la situazione rispecchia abbastanza bene. Quello che abbiamo già già detto con con il 360 ma soprattutto con il fear and green index nel senso che di nuovo c'è una situazione abbastanza bilanciata. Passiamo se la pulsantiera di zoom che quando arrivo a questo punto regolarmente mi mette in difficoltà eccolo qua me lo permette alla coppia che scoppia quindi i nostri amici market cap e dominas. Market cap ehm oggi sta scaricando vedete la candele di oggi è andata in sofferenza è andata un po' in sofferenza ma in realtà la market cap è tornata a a solletticare la resistenza dei dei due trillons. Non serve che vi dica per la trentasettiziana volta ma è che me lo ripete che i due trillons sono il livello per quello che mi riguarda che mi interessa avere superato perché al di sopra dei due trillons allora dal mio punto di vista è questa mia personalissima analisi quindi prendetela con la pinza del caso eh agli sopra dei due trillons torniamo ad avere un mercato sano in termini di liquidità eh finché restiamo qui sotto diciamo che eh tengo sempre le ricca alzate a prescindere ma le tengo a maggior ragione. Figo che però si diciamo il mercato la market cap sia riuscita a riprendersi abbia rotto questo channel che vi ho lasciato perché ne abbiamo parlato eh anche la settimana scorsa andando a rompere con questa bella candela del 4 febbraio molto decisa molto molto seria vedete che quasi è quasi solo body eh quasi non ha non ha shadow eh e che da qui è andata a risalire e che adesso stia andando a toccare il ad attaccare la resistenza dei due trillons che è stata in parte superata poi si torna anche su adesso vediamo che cosa succederà. Per adesso la situazione si mantiene abbastanza abbastanza da tenere sotto osservazione ma ma interessante. A livello di Dominance abbiamo fatto questo salto di di livello siamo tornati in questo range tra il 41 e il 43 e adesso stiamo oscillando all'interno di 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 questi due livelli di supporto di esistenza. Eh di nuovo eh Bitcoin ne abbiamo parlato anche la volta scorsa ha avuto un recupero in termini di Dominance poi è andato a riperciare e adesso finché resta all'interno di questo range soprattutto sulla market cap a bassa dire eh resta all'interno di un range sostanzialmente che non dovrebbe preoccuparci anche eh chiaro che se dovessimo andare a rompere questo supporto questa resistenza e tornare di sopra sapete che di nuovo ve lo ripeto per l'inizia volta questo è l'alto valore in questo caso per la Dominance che io tengo molto sotto sotto osservazione quindi diciamo del 42, 42, 8, 43 per cento eh se dovessimo rompere questo valore allora eh potremmo vedere una maggior sofferenza sulle altre soprattutto in assenza di una coordinata azione di crescita da parte della market cap però per adesso la coppia domina market cap e dominance eh non 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 ci dice nulla di preoccupante cioè nulla di preoccupante dà di buoni segnali ovviamente a tenere sotto osservazione. Analisi tecnica a volo d'uccello sapete questa ve la faccio sempre all'acqua di rosa perché è il campo di mica che poi all'interno della community fa i suoi market più approfonditi e vi faccio solo vedere che questa tendline qui non ho toccato niente della volta scorsa sono esattamente le stesse tendline gli stessi grafici. Eh vedete che la tendline che avevamo attacciato una sorta meglio tendline sta diventando un punto d'appoggio per la candela qua siamo sul giornaliero eh per ehm cioè sta diventando potrebbe diventare un punto d'appoggio non siamo andati a toccarla ma comunque ci fa adesso da tendline di supporto. Siamo in appoggio con la daily sulla sulla l'EMA 50 che però eh comunque come a 200 sono l'EMA un po' più lente quindi sono anche un po' più ehm un po' più coriace a reagire nei confronti del del movimento di mercato però sulle o può avere il suo senso guardarle e al momento abbiamo rotto questa eh quindi non è un ciano di dare proprio eh abbiamo rotto questa configurazione ribassista e stiamo cercando di tenerci in zona 40. Sicuramente il fatto di aver superato la soglia a 40 qua c'è anche il supporto per resistenza ma conigi è stupido e ogni tanto mi elimina a suo piacimento le cose non le fa gli apparire caso ma fidatevi eh finché ci teniamo al di sopra della soglia del supporto eh tecnico dei 40 e psicologico dei 40 eh diciamo che possono stare relativamente tranquilli perché qua comunque prima di scendere mandare a rompere appunto l'EMA 50 la miglior timeline e il supporto 40. Questo significa che siamo fuori caricolo anzi ma sicuramente il fatto di essere tornato a giocare in questo tipo di di range quindi di sopra dei 40 anzi in un range che al momento se la gioca tra eh volendo prendo molto largo tra i 40 e i 48 in realtà è tra i 40 e i 45 eh è sicuramente un segnale buono ci ho detto attenzione a due cose uno quello che avevamo eh visto la divergenza che abbiamo visto la volta scorsa è non solo ampiamente confermata ma esplosa se vi ricordate avevamo parlato del eh del fatto che ci si fosse configurato dopo molto dopo molto tempo dopo un lungo periodo di eh trend discendente una mh una rottura in senso contrario di un'inversione di trend da parte dell'RSI e una divergenza rispetto al prezzo bitcoin che è un segnale eh potenzialmente molto bullice che infatti poi avete visto a livello di pre section ha eh è andato a preannunciare un movimento un rimbalzo molto interessante verso l'alto quindi questa è una cosa che abbiamo individuato assieme eh prima che rimbalzo venisse ehm e che poi è stata confermata questo non di nuovo per dire oh mio Dio le doti di preveggenza no semplicemente l'analisi fatta in un certo modo dei grafici in tempo reale o quasi reale e di conseguenza l'adeguamento dei proficinati questa è una cosa la seconda cosa è questa attenzione perché adesso però RSI e stock RSI stocastic ehm RSI stanno andando in overpriced e sapete quando rentiamo in questa fascia come usciamo dalla fascia media il il prezzo di bitcoin risulta overprezzato la probabilità di un ritorno c'è ora è chiaro che noi già stiamo sprecando e probabilmente andiamo di nuovo a scaricare perché dobbiamo testare sicuramente questa tendine è ancora più sicuramente no ma con molta probabilità anche il supporto i40 per andare a confermarlo come tale perché noi di fatto l'abbiamo rotto ci siamo andati sopra ma adesso non l'abbiamo ancora ritestato e a ritestare il supporto i40 sarebbe importante per consolidarlo e da lì ripartire a costruire ma questo tipo di situazione per quanto sia una configurazione attualmente bullish ci deve comunque eh far saltare un campanello d'allarme sempre molto contenuto ma ma d'allarme resta eh o almeno di fare attenzione perché eh la probabilità di una correzione più importante a questo livello eh c'è ed è concreta ora ripeto non entro nel merito per questo tema di mica quindi lascio la 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 patata bollente da gestire e mh e vado invece verso la chiusura con l'indicatore ora eh scusate con le metri ora metti con c'è ne ve ne ho selezionate quattro eh come sempre ce ne sarebbe un milione ma eh non non possiamo stare qua fino all'alba quindi cerco di dirvi di mostrarvi quelle secondo me più significative la prima che si ricollega a un discorso fatto la settimana scorsa ehm e anche in precedenza è quella è questo indicatore che ci dà le le futures open interest eh e che sostanzialmente ci serve per capire cosa in questo caso specifico se quello che è avvenuto a livello di prezzo si possa imputare ad un ad un short squeeze vi ricordate che abbiamo parlato della probabilità che ci fosse uno short squeeze della possibilità che ci fosse uno short squeeze del fatto che ci fosse una serie di condizioni piuttosto favorevoli al verificarsi appunto uno short squeeze e quindi al fatto che ci si potesse aspettare un momento molto direttamente verso l'alto ehm ed un momento di volatilità volatilità bullice molto molto potente ora eh la realtà è che stando le metri con cena e anche stando all'entità dell'imbalzo è stato importante ma non è stato così violento come quello al quale si assiste di solito durante un un odio non è stato così violento diciamo che sarebbe potuto essere più violento eh stando alle metriche e alla price action quello che possiamo dire è che non c'è stato un episodio di eh di 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 de leveraging cioè quella classica ehm serie di liquidazione a cascata di tirare lo sciacquone del leve eh che di sotto è correlata ad uno short o ad un long squeeze infatti se vedete questa metrica che ci dà questo tipo di informazione vedete che i precedenti casi di 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 squeeze short o long che fosse sono stati accompagnati da dei movimenti molto pesanti di questa metrica no? Eh lo vedete per maggio 2021, luglio 2021, settembre 2021 e dicembre 2021 dove vedete che il prezzo si è fatto dei belli scivoloni o delle belle risalite molto evidente quindi in realtà abbiamo avuto una correzione importante qui e un rimbalzo importante qui però vedete che a livello di eh di de leveraging non c'è stato un un corrispettivo quindi anche se sicuramente le liquidazioni hanno avuto il loro peso eh non abbiamo ancora assistito a quel famoso short squeeze potente che stando alle analisi che abbiamo fatto il settembre scorso sembrava essere eh eh se non le porto comunque plausibile e anzi altamente probabile non è attenzione non è che l'ipotesi non short squeeze sia andata a farsi friggere c'è ancora però per quello che possiamo valutare al momento ok poi magari succede domani mattina come succede sempre con le crypto ma per quello che possiamo valutare al momento non è così forse non è così probabile come fino alla settimana scorsa avremmo potuto eh ipotizzare anche stando alle menze. L'altro aspetto che si ridega sempre al discorso della settimana scorsa e in questo caso però al comportamento delle whales è il fatto che eh la la propensione all'accumulo da parte delle whales è estremamente cioè sta continuando e sta continuando con grossa con diciamo con un approccio molto molto sostanzioso eh quindi al di là del movimento del mercato al di là di tutti i dubbi al di là di tutto quello che noi possiamo dire a livello di tendenza bearish tendenza bullish eccetera quello che stanno facendo le whales è continuare da accumulare ed è comunque un parametro che dobbiamo tenere in considerazione. Chiudo con le due metiche legate al solita analisi diciamo dell'ultima settimana facendovi vedere due cose che secondo me sono abbastanza interessanti non sono non ci danno delle verità incredibili ma ci danno un paio di informazioni utili rispetto a quello che sta succedendo. L'ultima settimana eh l'ultima volta ci siamo lasciati eh anzi le ultime due o tre volte ci hanno lasciato dicendo prima il mercato a livello di di metric on chain è bearish eh è prevalentemente bearish ma con dei segnali abbastanza bullish. Questo mi sono due settimane fa o due o tre settimane fa. Poi eh nei successivi crypto espresso io ho detto attenzione il mercato continua a mantenere delle ehm delle diciamo delle metiche più anche bullici ma sembrano essersi indebolite o comunque essere meno convinti di quanto non fossero prima. Adesso in realtà quindi sembrava che a livello di metiche on chain fosse il mercato la tendenza bearish a prevalere. Adesso in realtà non è che la cosa sia cambiata comunque siamo in una situazione in cui c'è grosse incertezze ci sono grossi punti di domanda e dove siamo ben lontani da avere un'inversione di trend convinta verso il bullish. Per quanto in questo momento il press action stia andando cioè abbia effettivamente registrato un rimbalzo importante stia tornando più a favore dei bullish almeno nel short term che dei bearish ma comunque è una situazione ancora molto molto da valutare. A livello di metiche quello che sta succedendo è ehm una questa volta sì parziale in versione di tendenze che guarda soprattutto il comportamento del short term holder. Questo perché è importante? Perché fino alla settimana scorsa fino a qualche giorno fa gli short term holders cioè quelli che sono entrati ehm da poco che comunque hanno aperto le posizioni ehm diciamo in con una forbice temporale abbastanza contenuta quindi non il long term che hanno ehm che hanno i loro asset eh bloccati da più di cinque mesi se non ricordo male ehm gli short term holders fino a qualche giorno fa erano ehm per lo più in in totale perdita. Questa è stata la prima eh diciamo la prima settimana da mo eh vedete da prima e da novembre sostanzialmente del 2021 nella quale si è registrata un mh un ritorno di di chiusure in profitto quindi un ritorno di eh di profitti di fatto per il short term holders e quindi sono andati chiusi le proprie posizioni non in perdita ma in profitto. Questo tipo di eh di 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 spike che vedete di sopra di andamento del della metrica di solito viene associato ad una situazione di mercato bullish e di ripresa della press action verso l'alto. Vedete? Vabbè lo 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 vedete qui lo vedete qui e in teoria questo che è uno spicchietto per il momento ma se confermato potrebbe andare ad anticipare una configurazione di questo tipo. Quindi rispetto a questa situazione dove era evidente che gli short term holders fossero in una condizione bearish qui eh la situazione potrebbe stare andando verso un'inversione di tendenza. Certo anche qua eravamo andati sopra e poi siamo uscisi sotto però il fatto che sia stato rotto con decisione il livello e che eh adesso lo si lo si stia andando a ritestare comunque potrebbe essere un un scenario interessante. Eh l'altra metrica è questa che è una metrica eh vabbè che fa un calcolo leggermente più complesso ma eh mi interessa per farvi vedere la la divergenza che si genera tra price action e questo specifico ehm questo specifico indicatore eh questa metrica va sostanzialmente a identificare ehm il la presenza di divergenze bullish o bearish tra la metrica l'indicatore appunto anzi tra l'oscillatore appunto e la press action e vedete che mentre qui quando eravamo a eh intorno all'olta e mai di 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 maggio 2020 aprile maggio 2021 eh si è andata a configurare una metrica bearish che una scusatemi divergenza bearish che effettivamente poi è andata a diciamo concretizzarsi in quello che è stato il drawdown di luglio e tutto diciamo il casino dell'estate scorsa in questo momento quello che sta avvenendo è una una divergenza bullish dove la metrica sta tornando verso l'alto e la ehm invece la price action almeno fino a pochi giorni fa eh stava andando verso il basso e comunque per il momento mantiene un questo tipo di configurazione che permette di confermare la divergenza ora in soldoni super estremi che cosa che cosa ci indica questa cosa della delle divergenze ci indica o se c'è una di solito ci dovrebbe indicare o una conferma del trend da un trend o up trend che sia o una inversione di trend quando ho una serie di picchi che vanno a restringersi quindi quando ho una serie di low o high che vanno a diciamo in sequenza a restringersi vanno a comprenersi di solito ho una conferma di un di un di un trend verso l'alto o verso il basso che sia quando invece c'è una rottura del livello zero quindi una rottura di questa barra rossa che vedete e qua vedete che c'è stata una rottura molto decisa di solito ci si dovrebbe aspettare una inversione importante importante di trend di nuovo ragazzi non è legge non è la sfra di cristallo non è che oh mio dio rotturo zero stiamo andando inoltre mai no sono tutti i dati che potete prendere e mettere insieme per fare la vostra due diligence e cercare di capire quale sia nel breve termine lo scenario più immediato lo scenario scusatemi più probabile questo ovviamente nel momento in cui siete in un'ottica di trader se siete un'ottica di investitori queste metri che vi possono interessare fin là perché di fatto ragionate su un orizzonte molto 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 più ampio e quindi andrete a vedere per mente o le stesse metri che ma su delle finestre temporali più lunghe o altri tipi di informazioni di indicatori molto più legati magari all'aspetto fondamentale all'aspetto della pre section nel diciamo della forbice settimanale o nella forbice a meno ancora che la forbice giornaliera ecco quindi diciamo che nel complesso per darvi proprio il bollettino a livello di metri con cena quello che possiamo dire è che la situazione sembrerebbe avere qualche conferma in più in direzione di un'inversione di tendenza che sicuramente è stata registrata una buona risposta intorno ai valori dei 38 87k quindi c'è stata e ancora prima dei livelli interiori quindi c'è stata comunque una conferma di come il mercato percepisca quella fascia una fascia in cui bitcoin è sottoprezzato e quindi ci sia una risposta del 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 prezzo e della domanda che fa sì che ci sia un rimbalzo e che si torna a volare più alti ma che soprattutto gli short time holder sembrerebbero aver preso ripreso un po di confidenza del mercato che sta tornando un generale per quanto ancora molto contenuto ottimismo a livello di di sentimenti mercato resta a vedere cosa faranno i long term holders e in generale wells istituzionali quindi le mani forti perché per il momento a parte quello che vi ho fatto vedere a livello di wells non sembra che la tendenza all'accumulo e alla chiusura delle posizioni da parte dei long term holders sia andata a cambiare sostanzialmente quindi diciamo che a livello di metri concene i long term holders stanno continuando o accumulare o a detenere le proposizioni in attesa di prezzi più interessanti per vendere e questo se non l'altro lascia il mercato più diciamo non aiuta il mercato a ripartire perché perché non diciamo non va a spingere la price action non va a spingere con l'acceleratore la price action verso l'alto dell'alto però anche un segnale che chi sta detenendo tanti bitcoin ogni tanti tanti cristo asset da lungo tempo non è ancora disposto a vendere a questo prezzo perché intende vendere ad un prezzo probabilmente quasi sicuramente più alto per portarsi a casa quindi ecco un segnale che magari nel brevissimo può risultare una stanca di mercato ma che nel medio lungo termine sembrerebbe dirci che chi che le mani forti hanno comunque fiducia nel fatto che il prezzo debba ancora salire e debba sedere non tra quindici anni ma in un tempo sicuramente molto più contento basta ho finito anche per sennò andiamo andiamo vado veramente troppo lungo io vi do appuntamento beh con chi è in live adesso tra pochissime il pene che dobbiamo parlare di un bel di un bel po di cose e con chi invece non è in live o comunque non fa parte la pubblica direttamente la settimana prossima vi ricordo scusate mi mancava perché la parte di di marchetta finale che non faccio mai ma che serve di mettere e dovrei fare inizio di iscrivervi al canale mettere like e seguirci insomma darci un po di sostegno se vi interessano restare insomma seguirci per questo tipo di contenuti restare con noi per questo tipo di contenuti e di nuovo se volete approfondire tutto il resto del mondo di me di andare a cercare il link sotto e entrare in in commenti con noi anche tanto c'è anche il profilo qui in particolarmente con usare a ci ho detto vi abbandono interrompo la condivisione vi auguro una buonanotte delle buone cripto fate la vostra due diligence e mi raccomando fatti bravi le prove sempre e fate le cose con testa buonanotte buona piuttosto